Siamo facendo i vecchi! Allora, amore mio! Allora, iniziamo con Matilde, Matilde che è la mia sinistra e soltanto a me è uguale, che a volte mi confondo pure io. Matilde, come stai? Bene, bene, proprio, sì sì. Sei contento di stare qua? Vosto. Ma ormai tu lo sai che ogni anno, però non venite nella mia dimissione, non ci fanno alcun gatto a te. Eh, vai. Matilde, allora. Ciao a tutti, sono Daniela. Veramente? Daniela, Daniela. E' un piacere essere qui nella tua trasmissione. Grazie a tutti. No, perché non stai scherzando. Volevo ditte una cosa importante, voi studiate, spiegami voi questa cosa. Sì, noi studiamo danza moderna da un paio di anni, quindi siamo abbastanza, se la capiamo da sole facciamo anche le coreografie da sole. Ma questo significa che avete fatto una coreografia per me? Sì, una coreografia per la trasmissione, per venire in questa trasmissione. Ah, però la vittima, però vuoi la coreografia? Sì. Vabbè, allora vi facciamo una cosa, vedete che loro sono gemelle e parlano sempre insieme, perché tutto nella vita fanno insieme, tutti i video, tutte le giornate insieme ed è una cosa meravigliosa questa. Io vado un bacio a papà e a mamma che stanno entrando lavorando. Sì, infatti, stanno lavorando. No, mamma è a casa, papà deve stare lavorando. Ah, mamma è a casa? Sì. Guarda mamma, saldiamo la mamma, la nostra inglese. Mamma! Ciao mamma, perché la mamma è qualcosa di più. Eh! Invece papà sta facendo, sta lavorando. Sta lavorando. Saludiamo tutti gli infermieri, tutti gli infermieri che stanno all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sì. Tutti i dottori, tutti quanti. Quindi, adesso facciamo una cosa, io voglio vedervi ballare. Questo pezzo come si chiama? Work. Work. We work, work. Facciamo questa balla, poi dopo voi andate a sfogliarvi, poi ritornate con questa coreografia, con il pezzo mio. E balliamo la ballata. Poi mandate qualche salute, perché sicuramente non è voluto salutare qualcuno. E adesso ne proviamo un paio di saluti da fare. Un paio? Un paio. Eh, ma ci vuole un paio, ma ci vuole un paio. Allora, iniziamo a salutare, vabbè, mamma, papà. Allora, Nuno Vincenzo, Nonna Matilde, Giacupetta, Vinci, Antonella, Nonna Enrico, Angela, Vicky, Marisa, Maurizio, Melli, Barbara e Gabriella. E l'ho detto tutti. Ma chi è andato? No, un paio a tutti i nostri amici che ci guardano e a tutti quelli che sigono la trasmissione. Va bene. Allora, amici, 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 parenti e tutti, ci abbiamo le gemelle Pischetti con questo brano che balleranno, dedicato a tutte le persone che ci stanno guardando, ne sono in tanti, veramente me lo posso assicurare. Bello, regia, con il brano... Wook. Wook, ma è 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 Wook. Wook. Wook, ma è 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 Wook. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di fiatone, no? No. No, questa non l'ha cammata abbastanza bene. Ragazzi, adesso voi andate a prepararvi per fare la coreografia su questa canzone che canto adesso. Va bene? Ma dando un bacio a Ivan, che è un ragazzo che vi vuole bene. Si chiama Ivan. Ciao Ivan. Ok. Un bacione grande. Ciao. Allora, prego, si accomodi, si accomodi. Signoria, si accomodi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.